Uno strutturato sistema usuraio dove alcuni soggetti si occupavano con diverse modalità di prestare somme di denaro, altri di procurare i clienti e della riscossione. È stata smantellata così a Roma dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Fidene Serpentare, quelli di Polizia Roma Capitale, una organizzazione dedita ad usura e spaccio di sostanze stupefacenti. 10. Le misure cautelare emesse dal GIP al termine di complessa, indagini coordinate dal PM del pool reati contro il patrimonio e criminalità comune. 6. Custodia cautelare in carcere, una misura degli arresti domiciliari e 3. Misure dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Custodia cautelare in carcere anche per un 65enne di Andria accusato di usura, spaccio e abusiva attività finanziaria. Manette anche per un 55enne di Viterbo, un romano 47enne attualmente già detenuto, oltre che per un 42enne romano già ai domiciliari, come anche un 61enne infine. Manette anche per un 32enne, sempre romano, ai domiciliari è finito un uomo 49enne, mentre per altri 3 dovranno presentarsi davanti alla Polizia Giudiziaria. Elemento decisivo di riscontro è stato fornito dalle dichiarazioni rese dalle stesse vittime di usura. In gran parte titolari di attività commerciali sul territorio di Roma. Contestualmente è stata ricostruita anche un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti che ha portato al sequestro di circa 3 chili di cocaina e 6.400 euro, sequestrati anche 39.800 euro ritenuti provento dell'usura, assegni bancari, dati a garanzia per un valore di 40.000 euro, carte, poste pay e libri contabili in cui erano annotati i prestiti concessi e dai quali è emerso inequivocabilmente il tasso usuraio applicato. Grazie.